Sono Pierangelo Valtinoni, il compositore di The Asaubra Bonos, una opera di bambini in due atti basata sulla meraviglia di Ose di Lehmann Frank Baum. The Asaubra Bonos è una giornata onirica e intima di Dorothy che si chiama con la compagnia di tre caratteri emblematici, di Vogelscheuche, della Blachmann e della Feigellove, che simbolizzano certi sentimenti, brain, art e braveri, che sono parte della nostra personalità. In The Asaubra Bonos, ogni carattero è caratterizzato da un strumento particolare musicale. L'Oboe rappresenta Dorothy's musicale, in cui la fluta, la clarinetta e il corno rappresentano in Oda le Vogelscheuche, la Blachmann e la Feigellove. Il suo posto e il suo particolare situazione è rappresentato da un settore molto preciso musicale. Dopo Pinocchio e dopo Disney Königin, che l'audizione del comiche operatore Berlino già conosce, The Asaubra Bonos è la terza opera scritta con Paolo Madron, il libertista, e Anna Francesconi, l'autore delle versioni germane. In ogni di loro, c'è sempre un carattero che sta cercando per qualcuno altro, trovando loro nella mano. In Pinocchio, l'audizione di Puppet perdono sei e finisce il suo padre. In The Schnee Königin, Gerda perdono il suo migliore amico Kai, che è scoperto dalla Queen Snow, ma, in fine, e lo trova nel bosco. In The Asaubra Bonos, Dorothy, per la giornata alla città di Emerald, trova e ottene la sede, il senso, la bravura, e l'abilità di amare, qualità che permettono a lei di tornare a casa e di cuidare dell'ultimo uomo e uomo.